e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui tornati su monopoli corica per fare le vincite veloci iniziamo subito ovviamente tentando di fare il prima possibile come sembra anche noi dobbiamo cercare di fare il record ovviamente aumentato il problema adesso è un altro no niente mi ha dato per uno no male io non me lo do la rabbina in banco no no penso che questo riesco a migliorare ok e questo l'abbiamo capitato adesso spero che la prossima vincita non sia molto difficile arrivato probabilità una volta sperando subito prendiamo un po' di premi da un bel cinque niente nove dai di breve di me con questo tiro riesco no è vero uno non ci credo è addirittura 12 ci prendiamo un po' di premi niente già l'abbiamo no rega non ce la faccio con i dadi tento il per tre sperando chi ci fa altri due tiri non ci credo sono sempre visto da questo è l'ultimo tiro mi sa che se niente adesso come provare dobbiamo vedere se qua mi da un po' di dadi ok dai quindici dadi avrei cinque tiri da fare andando alla stazione logicamente ok dai ti credo non ti credo che ci aveva tutto distrutto invece vado io e boom subito con lo scudo niente ma non mi vogliono far andare su questa probabilità no dai devi tentare per uno per forza guardate là per poco non ci credo ah ma ne rega l'ultimo all'ultimo rega l'ultimo dato non ci sto credendo rega che fortuna problema ci abbiamo messo quasi cinque minuti vabbè che se ne rega l'importante è che diciamo abbiamo completato troppo è l'ultimo quindi rega che delle spiace che questo video vi sia piaciuto lasciatevi tanti like e noi ci vediamo domani con un prossimo video bella rega ciao 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 Grazie a tutti